andando andando di maledetti poi vediamo cosa salta fuori cosa davvero cosa che la parte 2 del stack up disc e quindi lo facciamo adesso subito al volo volando bene stack up disc mica pappocchia parte 2 andata e oggi facciamo una una particolare puntatura del stack up disc parte 2 questa che è quella più bella ancora della parte 1 questa farà esplodere di piacere un po tutti quanti andiamo subito in the sky allora partiamo subito nella scena siccome noi parlo abbiamo più spazio ormai siamo diventati pochissimo spazio siccome noi non abbiamo gli espansione espansione varie ci siamo procurati una nuova espansione espansione del pep dell'industrier del banco della scuola guardalo qui che viene fuori da sotto la scrivania come un industrier guarda qua adesso siamo proprio comodi adesso siamo proprio comodi potete giocare come dei matti il microfono è sempre più lontano lontanissimo però noi cosa ce ne frega lo mettiamo quando serve se serve lo mettiamo se non serve anche buono adesso noi vogliamo farvi vedere con tutti i nostri mezzi super tecnologici come si può fare a far andare il test assistrovers e il portatile contemporaneamente sullo schermo nostro che abbiamo non qui perché se io faccio qui e qui ma esattamente qua e come lo facciamo lo facciamo così 1 2 3 schiaccia qui e tac e come per magia abbiamo il portatile eh va bene vi piace così e invece noi accendiamo anche il nostro amico texas instrument per spire to begin aceri di cesamo ah si è acceso come per magia il nostro underscore spider ok noi schiacciamo qui tac e eccolo qui eccolo qua sono tornati sempre qua che non va confuso con di là perché qua sopra c'è il joystick non riusciamo a prenderlo perché ce l'abbiamo qua torniamo a noi non è subito questa perché non è questa sarà sarà una puntata molto difficile perché questa dobbiamo andare qua dentro a prendere il portatile andiamo a prendere un attimo il portatile e facciamo vedere come noi usiamo tutto l'ambarabacchio adesso vuoi che mi guarda la spalla non è proprio il caso che mi guarda la spalla tu continua a guardare il medesimo qua tu guarda qua non non preoccuparti di quello che succede noi adesso voi magari che guardate vi vedete guardare qua perché non posso guardare qua perché se guardo qua vedo il mobile devo guardare qua se faccio io partire adesso l'hams girls guardate un po' eccolo quello che volevo spiegare io il game base facciamo partire allora l'immagine è un po' stretta però non rompetemi i maroni mi serve soltanto per farvi vedere non voglio di configurare 7000 volte lo configuro una volta sola press fire to begin dove sei eccolo qua ok siamo tornati nell'indesgeber dell'industria ok il primo gioco che è venuto fuori dal game base vedete ve lo dice da solo da solo sempre lui medesimo vi dice che abbiamo trovato adam ed eve ok adam ed eve e adesso noi vi facciamo vedere come cerchiamo di capire come cassius è allora col game base ok se noi facciamo partire il game base play tiriamo sulle mani e non tocchiamo più un bel negot lui ci dice non toccare niente vi raccomando non fare non fare mostre false ti fa vedere che fa partire il ti tra ti tac e poi forse scrive neanche perché come sapete benissimo le standard basic una volta che c'è dentro il disco che voi volete far partire partire automatico e questo è il risultato ok è partito da solo adesso noi andiamo a vedere qua in adam ed eve tasto destro guarda eh pac questo è quello che dico io l'utilità di unire l'utile al dilettevole lo uniamo e ci giochiamo capito uno può dire vabbè ma scusa ma c'è già il game base gioco ci sono più portati ma perché aveva tutto sto casino perché me va così per farvi vedere le cose tasto destro ho sbagliato mouse perché c'ho anche due mouse perché uno è di qua uno è di là un casino game file ok ti facci qua tac e ti fa vedere dove è questo gioco questo gioco qui è situato nella cartella disc tiger cab 1392 french joystick game dell'index gabber ok so già col game base che mi fa partire l'extended basic eh l'avete visto avete visto che ci aveva già la cartucina dell'extended basic già pronto era già lì si vedeva benissimo e l'extended basic se c'è dentro adesso io vado a prendere il disco adesso vado a prendere il disco e vi faccio vedere 1392 dell'industria ok cartella game vedete sono qua la cartella che diceva lui game disc andiamo a cercare tiger scroll 1392 tiger club tiger club tiger club io non lo so il nostro grande amicone ciro barile dell'index cars ci saprà dire che penso io che il tiger il tiger il tiger cab tiger cab altro non era che è una tipo una rivista qualcosa io non posso sapere tutto è però possiamo informarci ci informeremo e vediamo che cos'è 1392 andiamo a cercarlo 1392 eccolo qua 1392 frame joy's guest fighter ok tasto destro siccome è zippato a noi ci serve l'immagine pulita quella proprio estrai qui che non ce ne frega un bel negozi estrai qui eccolo qua tiger scroll 1392 ok avete visto è bello ok adesso noi questo qua tiger scroll 1392 per farvelo vedere bene 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 è un esempio stupido è andiamo nel tdir eccolo qua faccia partire il tdir sei sicuro che sei proprio un animale underscars? certo vai tutto tranquillo adesso lui dirà qualcosa anche lui magari dice press file to begin e adesso ne facciamo file another directory come al solito tre sono che poi c'è n'è una che dorme che poi c'è n'è uno che caga è rimasto uno solo c'è svegliato anche il cane e finito di fare il video pronti allora disc ok andiamo a cercare tiger club 1392 eccolo qua ok siamo andati nella cartella disc adesso cerchiamo tiger club 1392 che è questo oh eccolo qua se noi lo facciamo lo facciamo doppio clic col col sinistro vedete che c'è subito un tiger club un tiger cab che c'è un file che si chiama load allora quando c'è un file che si chiama load in questo caso eh prendetelo con le pinze perché io c'ho delle maniche altro che pinze queste qui sono tutte cose che io un po' il ciro un po' il capitan timop un po' il il fabrizio luglio arrivano e continuano e mi bombardano e mi bombardano e mi bombardano e mi bombardano per questo che sto diventando un po' un dotto surpe arale tutti e due mi mischio perché alla fine dopo magari tra un mesetto o due cambio cambio sistema non vado più nel testa system e vado nel nel siga se c3000 buona mi dimentico tutto almeno che la bibbia del giovane halo halo e lista che c'è dentro tutti i computer tutte le periferiche che sto usando tutti i formati tutte le nozioni che mi danno perché ognuno c'ha il suo msx huga francesco huga va riempito la bibbia dell msx l'ha fatta huga praticamente e per ogni computer ce n'è una il dick 20 cutrone e bergomi ce n'è per tutti per tutti e adesso siamo nel texas instrument torniamo a noi vedete che c'è il load vuol dire che se nel dischetto c'è un load è stato fatto in un linguaggio extended basic quindi basta semplicemente mettere il dischetto nell'indescriver dell'apdisk mettere la cartuccia del extended basic fai partire la cartuccia extended basic in automatico parte il disco e noi non ci rompiamo più i baroni va bene è molto semplice se non dovesse esserci load se noi andiamo a vedere adam ed eve ok va bene questa qui è la più stupida delle differenze che c'è guardate questa è bella tasto destro guarda guarda il file ok vieni qua fammi vedere un po bene vedete che ci sono non c'è ogni ogni riga vedete lo vedete bene no ogni riga una una riga di comando ci sono per ogni riga più stringhe di comando mentre invece il t basic per ogni ogni riga c'è una sola stringa di comando la differenza quella papale papale tra t mesi per essere belli è questa qua che il t basic è fatto come proprio semplice semplice c'è una riga di con una riga di comando per ogni però una stringa di comando per ogni riga invece qua vedete per esempio qua andiamo giù ho sbagliato ma così qui andiamo qua per esempio qua vedete qua tab tab e due punti col crea due punti col desperado sto punti go su mille tre due punti questo è chiaramente extended basic avete capito come funziona adesso almeno la differenza tra il t basic e le standard basic e questa è la più stupida non ci credete adesso facciamo partire cambiamoci subito nel nell'esattamente nel nel tt99 nel text assist cambiamo passo vai schiaccia qui e schiaccia lì eccolo qua oppla e siamo nelle standard basic adesso nelle standard basic che cazzo sei partito con quella tramontana che ti ha preso chiudiamo l'estensione del banco da lavoro togliamo via questo che ci dobbiamo avvicinare un pochino mettiamo le cuffie che forse lo sentiamo un bel legault e vi facciamo vedere la primissima differenza quella proprio stupida t basic e standard basic ci siamo allora wallie tu non è che mi puoi star sempre così vicino che io non riesco a capire un bel legault mettiti un po' più qua oh così tanto gli altri sanno che hanno visto che ormai ci smanettiamo come dei maledetti ma è che ti spingo giù dalla finestra giuro capitano coraggioso tu lucami 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 a me non guardare di qua qui a me allora il microfono lo lasciamo lì allora 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 facciamo due prove prima per cercare di sgranchire un po le dita e le orecchie non mi ricordo se ho già fatto la copia vediamo subito pensane che è il tour game vai devo andare a vedere prima di tutto che che casio scratch abbiamo qua allora andiamo a vedere cosa c'è dentro qui scusami capo call smapp vai fammi vedere nel disco 1 c'è l'app disco 1 dell'industrier poi chip chop chop andiamo nella cartella sacca per vedete che io ci avevo anche la cartella tosec la cartella tosec è stracolma ma proprio straripante tra floppy in questo caso solo floppy ok però se io apro la cartella tosec adesso guardate un attimo non so forse ci dovrebbe essere ancora non so forse ci dovrebbe essere ancora guardate guardate call ferma tutto call e change dir spazio eh tosec guardate eh call maledetto tu spazio l dir oh si ricorda vedete vedete che non si capisce un bel negozio attack basket poi capite che abbiamo visto che c'erano i tiger cab e ce ne erano 1392 quindi vuol dire che ce ne sono uno sfiniti uno sfiniti un'infinità potete capire che otto carattere t i g e r k e e sono tutte tigercup 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 e non capisci qual è il file quindi non ti metti lì e li riscrivi tutti ci sono file per abbassare allungare accorciare o se no li prendi uno alla volta perché così cosa capisci guarda bc82 bc78 bc stocatsibus non capisci un bel negozio quindi questo è l'esempio del tosec che serve a poco un mega pack qua perché non riusci a capire effettivamente che cosa che cosa è xb tool bt wheel battery dell'industria ma perché perché allora che poi magari quello che c'è in parte tipo non so bc56d poi c'è uno star magari è un indizio ma non lo so io non ho ancora ben ben masticato la cosa e allora io lo faccio come se fosse un flopettino da solo adesso noi riusciamo da qui e facciamo call cdir e andiamo nella cartella quale nella cartella del saca spruz saca pev e vediamo se avevo già copiato il tiger's gather call e le dir invio c'è 1461 vedete che c'è il tc 1392 tiger's claw 1392 dell'industria ok quindi noi adesso buttiamo come nel come nel come è che si chiamava il diamond tool come nel diamond tool del pc noi buttiamo questo tc 1392 nell'apdisk lo creiamo lo montiamo e quindi call make disk spazio parentesi nel 1 mettiamo nel floppy drive 1 potrei scrivere 2 3 e basta non è che posso mettere 4 non c'è 4 1 2 3 virgola pacchete apici tc 1392 tc 1392 ok e chiudiamo le apici va bene vediamo se abbiamo fatto giusto perfetto adesso adesso guardate bene col ldisk abbiamo detto che se non mettiamo numeri lui ti fa vedere la direzione del drive 1 se mettiamo ldisk 2 ci fa vedere il 2 se mettiamo 3 lo sapete benissimo non lo ropetetevi i maroni vedete che c'è adam e tiv defender diamond dell'industria 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 greber hop l'ohad micro b monkey tunnel adesso se facciamo finta che non sappiamo niente e lo vogliamo far partire con il t basic noi facciamo old old spazio dsk1 punto adam at eve maledetto lui ok e lo facciamo partire lui ti piglia anche in giro perchè fa eh allora ma scusami eh guarda che c'è qualcosa che non va mi sa che c'è qualcosa che non va proprio allora uno dice mmm vuoi vedere che non è il t basic vuoi vedere che era l'extended basic come dicevamo noi prima vi ricordate che vi ho detto che se c'è un load allora vuol dire che molto probabilmente senza molto probabilmente è stato scritto in extended basic e vi ho fatto vedere sul t dir che per ogni riga di comando ci sono più stringhe di comando ecco allora adesso ne facciamo una bella cosa resettiamo solo il texas instrument e non resettiamo l'apidash andiamo a mettere la cartuccia del tel dell'extended basic tac extended basic vedete che si vede extended basic c extended basic dell'industrier b extended basic ok frame joystick game adam ed eve defender le vuole di sto cazzo eccetera 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 però anche tu nell'inferno sembrerebbe veramente caruccio ma noi dobbiamo provare adam ed eve il game base ci ha dato adam ed eve adam ed eve uno degli identifiche vai e come per magia chissà perché chissà per come mai chissà per because adobe ragazzi vi sto tirando matto sto diventando praticamente il nuovo tagliaerbe il nuovo perché già era vintage allora adam ed eve questa manina qua la possiamo mettere qua grazie 22 minuti di registrazione eh per fare un sac a pev dell'industrier proprio qui parte pulito guarda che bello adesso non mi ricordo se funziona già anche il joystick si guardate che bello oppla ci impiega un quarto d'ora a tornare giù eh oppla lì si gira anche scusa c'ha anche un ciuffo proprio di quelli statosferici ole è un po' un un mario bros all'ennesima potenza salta qui ole la spaccata prendiamo le mele perché si chiama adam ed eve torna su vai su non è andato su che nervoso madonna che omino che bello eppure queste cose mi fanno impazzire di maledetti proprio la freccia non so a cosa potrà mai servire perché non non ti prende non ti fa niente vedete che è lì sotto che non fa niente non va su però perché non vai su non capisco perché non va su vuoi vedere che eccolo qua era schiacciato quello schifoso di un caps lock maledetto oh vedete che adesso sale vai 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 adesso all'indietro è moonwalker vai così e ascolta capo cerchiamo di non pigliare la freccia in corna proprio no sono stato troppo presto oh che ce l'abbiamo fatta ce la facciamo eh ci siamo eh io li adoro quei giochi qua ragazzi ti fanno perdere quel porto d'ora di pura tranquillità e serenità se non mi arriva la freccia in fronte adesso noi dobbiamo prendere praticamente tutte le meline qua che sembrano delle mele adam ed eve sono solo mele quelle non ce l'è di palle ok riusciamo a saltare vai scavalca al momento ti piglia i maroni sono degli aspirapolveri degli aspiranti aspirapolveri vai facciamo andare via anche il secondo vai oh ce l'abbiamo fatta vai 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 cerchiamo di non sbagliare adesso ma scusa ma perché ma non è possibile ma sei proprio un pirla sei ok allora hopla mamma mia che pelo che ci ha fatto sto giro vai mamma mia ma no ma no ma non è possibile non ci ah ma perché finisce il cuore si vuol vedere che si sgretola il cuore salta all'indietro andiamo eh ah ne abbiamo speduti adesso salta facciamo passare questa cazzo di freccia salta e basta con le figure di merda ma vedete vedete che c'è quella schifosa di una freccia maledetta che in basso vedete che c'è quella freccia verde che no ma non serve a niente la freccia la minchia quella freccia lì si arriva sul cuore muori è come un tempo un timer un indescarce adesso ci siamo ragazzi adesso abbiamo capito perché ci rompeva i maroni che a un certo punto si moriva per il negote perché devi essere veloce quella schifosa di una freccia ci vuole fare l'ano e l'altro anale quindi ti devi dare una mossa potevano farla andare un po' più piano eh sta cazzo di freccia devi diventare matto per prenderle tutte ma insomma no è troppo troppo veloce ma frena un po' l'urida schifosa siamo morti siamo morti basta avete visto adesso però mele non dobbiamo più prenderne adesso basta prendere le mele possiamo andare via decisi a prendere subito saliamo le scalette e andiamo a prendere quella stronza di Eva che è lì e forse ce la facciamo forse mamma mia che velocità peggio di Fast and Furious vai corri corri bestia di uno corri corri Johnny Adam Eve sto arrivando aspettami attento alla freccia sta arrivando nell'altro anale salta la pallina ma è troppo vicina prendila 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 vai scappata Eva dove è andata dove sei guarda dov'è quella lì ma guardate che giro che c'è da fare adesso ma ecco guardate quanti cuori che ci ha dato però praticamente a 14.000 cuori ci danno un puffo non mi ha fatto neanche saltare però è bellino è carino salta vai praticamente le mele sono soltanto per avere punti extra io penso di aver capito così ci prendeci cucca più di strallo lurido eh ma guarda che giro da stronzi che abbiamo fatto ma si potrà penso che noi dobbiamo soltanto toccarla la Eve prenderla per mano e portarla d'ontano lontano ma ragazzi è un gran bel tragitto da fare con quella cazzo di freccia che viaggia alla velocità della luce sembra che va piano ma in un attimo è lì l'urida lei sua sorella e non è facile ragazzi questo eh cioè il tempo e tiranno veramente di brutto no ok a momenti mi attacco alle zampe del pipistrello e la freccia è lì eh ma come farò mai dai 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 ti ho preso devi saltare quando sei vicino a Eve gli devi far vedere il culo e allora cambia di l'altro livello questo è praticamente insormortabile insormontabile dov'è? non c'è neanche Eve adesso arriva alle mele dove sei? guarda dove è andata a finire Eve e certo mi ha preso va bene avete capito come funziona questo qui bello 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 Adamo e Eva la storia dell'Industrier unito all'Industrier questo è veramente bello torniamo nell'Industrier vi ho fatto vedere la differenza tra il T-Basic e l'Extended Basic ok va bene la modalità di caricamento dell'Industrier va bene abbiamo provato anche Adamo e Eva eh più di così cosa volete? cosa volete da noi? va bene ragazzi per ora è tutto dal nostro amico Adesso è quanto la nuova alla prossima si rampete è tutto è tutto My heart is a ghost town Woooo Oh